La mia funzione è di promuovere questo distretto di Brera in tutte le eccellenze che sono presenti nel distretto. Nel distretto sono presenti come minimo 4 grandi aree di eccellenze. Una è il design, l'alledamento, una è la moda, la terza ma non per importanza è l'arte e la cultura e l'ultima è il settore della enogastronomia, quindi ristoranti e bar. In Brera ci sono la bellezza di 860 punti vendita attivi tutto l'anno in questi 4 settori che sono più o meno equamente distribuiti all'interno del quartiere. Pensate che nel quartiere Brera ci sono 80 vie commerciali, quindi è un quartiere molto diffuso e anche molto vario perché camminando per Brera, camminando in queste 80 vie si incontrano le attività commerciali più disparate. Quest'anno ci siamo voluti concentrare sull'arte. Dopo il successo che abbiamo avuto con Brera Design District che è stata l'organizzazione che ha messo in risalto l'eccellenza del design, quest'anno vogliamo iniziare un percorso per mettere in evidenza le eccellenze artistiche presenti nel quartiere di Brera. Abbiamo contattato fortunatamente una ottima organizzazione che è la FIA, presieduta da Oldone e San Giorgi, che in questo caso è stato un po' il deus ex machina di questa operazione e abbiamo coinvolto più di 90 punti espositivi dove verranno presentati circa, si chiude un centinaio di eventi, dei quali molti stranieri. Quindi è l'anno zero, ma mi sembra che ci siano tutte le premesse a che questo anno zero possa continuare nel futuro e diventare una cosa importante che caratterizza il quartiere. Grazie a tutti!